Nella maggior parte dei casi le richieste rivestono caratteri di massima urgenza. Laddove non sia previsto un limite temporale stabilito puntualmente, le relazioni tecniche vengono evase in pochissimi giorni. Nel caso di questa RT, la tempistica delle comunicazioni con il Ministero del Lavoro e la Regioneria dello Stato è stata la seguente. Innanzitutto, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 2 luglio, ha inviato al coordinamento generale statistico attuariale la richiesta che qui viene descritta in dettaglio nel materiale che vi ho distribuito. Vi prendo soltanto un estratto in cui veniva chiesto di stimare la platea dei lavoratori coinvolti dal provvedimento, dal DL, al fine di quantificare il minore gettito contributivo derivante dalla contrazione del lavoro a tempo determinato. Nonché il maggiore gettito derivante, questo è virgolettato dalla richiesta del Ministero, derivante dall'aumento del contributo addizionale previsto dall'articolo 2, con lo scopo di bilanciare le minori entrate con il maggiore gettito e garantire quindi l'equilibrio finanziario. Da notare quindi che nella stessa formulazione della richiesta, il Ministero riconosceva il fatto che ci sarebbe stata una riduzione dell'occupazione a tempo determinato.